ok, sempre nuove frontiere sul toolkit creator di Spatial andiamo a vedere come inserire qua degli oggetti presi dall'asset store l'asset store di Unity lo trovate direttamente qua in realtà è un sito web fondamentalmente in cui vi registrate con la vostra identità di Unity quindi in questo caso il nome è riconosciuto ma faccio il sign in e dovrei entrare ok, quindi nel momento in cui mi fa entrare mi fa vedere che ci sono un sacco di cose di cui molte le ho già comprate tenete conto che molte cose sono gratuite questa è una cosa importante quindi se cerchiamo ad esempio delle porte doors e cerco delle porte mi arriva un sacco di cose che tendenzialmente sono a pagamento 7 euro 15 euro eccetera ma è possibile chiedergli di avere praticamente un pricing e nel pricing vedere solo i free assets allora se vediamo i free assets vedete che abbiamo un sacco di cose gratuite che sono comunque interessanti ad esempio prendiamo non un detection ma prendiamo un free pack di questo tipo qui ci sono un sacco di porte e vorremmo provare a prendere queste giusto? quindi facciamo un quick look a questo pacchetto e adesso io l'ho già comprato quindi mi fa vedere direttamente open in Unity ma nel senso che fa tutto il giro quindi prendiamo eventualmente un asset che non l'ho già preso prima per esempio vediamo un po' una porta interessante una sci-fi door che non l'ho preso prima faccio add to my asset è gratuito mi fa firmare diciamo una intesa di Eula dire che accetto diciamo nelle condizioni che qui mi viene andata su questo ci sarebbe poi da discutere comunque tendenzialmente per progetti come facciamo noi quindi educational è tutto abbastanza pulito se dovete invece farlo per fare un gioco che poi vendete fate poi attenzione a usare questi oggetti che sono coperti da Eula allora facciamo accept quindi abbiamo add to my assets andiamo su go to my assets vediamo quelle che sono le cose che ho comprato vedete che ho già comprato le porte precedentemente e in questo caso prendiamo questa sci-fi door che sono 4 megabyte quindi piccoletta e proviamo ad aprirla in Unity ok aprendo in Unity praticamente ci ci presenta il package manager sostanzialmente questo dobbiamo entrare dentro il package manager quindi a questo punto lo fa sempre attraverso il sito web quindi è un po' un po' complicato diciamo però tendenzialmente una volta fatto c'è refreshing assets e poi sortiamo per decrescente purchase date quindi vediamo la nostra sci-fi door ok a questo punto visto che è piccoletta possiamo anche scaricarla sono 4 megabyte facciamo download attenzione che il download non vuol dire metterlo direttamente nel vostro progetto state notate che io ero nel mio progetto originale ma vuol dire scaricarlo in una specie di cache e poi per averlo effettivamente nel vostro progetto dovete fare l'import e quando fate l'import vi dice quale part del pacchetto vi interessa e noi importiamo tutto in questa prima fase e quando si importa tutto cosa succede? che quello che viene copiato viene copiato nei vostri assets qua sotto e quindi noi negli assets ci dovremmo trovare una sci-fi door che è questa ora qui abbiamo il primo problema che mi aveva bloccato a suo tempo è che qui c'è un prefab che è questo sf door che se vado a vederlo faccio doppio clic su questo pacchetto allora effettivamente c'è come forma quindi una sf door però non c'è come texture quindi abbiamo perso le texture quindi dobbiamo ricostruire le texture interrompo un attimo così verifico che la procedura sia giusta ok allora sf door vedete che le texture sono sbagliate fondamentalmente quindi andiamo ad analizzarle quindi andiamo sostanzialmente nei materials vedete che questi material sono tutti viola il viola è un modo che ha Unity e in realtà anche Blender o altri software per dirvi che mancano o comunque sono configurati i materiali però se ci fate caso quando andate praticamente dentro la vostra porta in realtà ci sarebbe la texture vedete che qui c'è un albedo che rappresenta praticamente l'originale cos'è che è sbagliato praticamente? quindi se cliccate vedete che c'è door df e c'è anche la normal che è questa quindi ci sono due texture sostanzialmente infatti lo vedete perché se andate sulle texture ce ne sono due door df e door nm quindi come fare per mettere a posto quello che sono i materiali bisogna andare nei materiali e andare nel door df e cambiargli sostanzialmente lo shader invece di mettere un shader legacy gli mettete un urp cioè praticamente il primo che c'è che è uno degli ultimi supportato ok? quindi facendo lo shader e cercate il lit vedete che vi ha preso in realtà una delle due texture questa è la texture che rappresenta il normal map quello che non vi ha preso è l'albedo quindi bisogna prendere di nuovo l'albedo e sistemaglielo al posto del materiale che c'è lui quindi sarebbe il base map questo quindi bisogna andare nel nostro texture dove abbiamo il nostro texture e poi prendere l'albedo e sistemaglielo come base map e vedete che a questo punto abbiamo praticamente l'oggetto con la texture map a posto questa stessa cosa la facciamo eventualmente anche per questo materiale è the legacy shaders non ha nessuna texture quindi in realtà questo non ci interessa neanche il collider non ha texture quindi l'unica cosa che ci interessa è questo signore ora se andiamo nei prefabs vediamo che questo prefab è sbagliato perché è sbagliato perché intanto gli manca un iscritto però vedete che è già così adesso le texture compare giusto quindi abbiamo aggiustato le texture quindi se noi andiamo in teoria nella nostra scena questa e ci portiamo a questo punto questo materiale vedete che ce l'abbiamo giusto quindi ce l'abbiamo giusto dobbiamo eventualmente solo verificare che non abbiamo as missing script però for fixed issue perché lo script che c'è dentro sarà uno script che ci arriva con la porta quello che gli permette di progressare la porta ma che noi interessa relativamente poco e soprattutto gli script c-sharp non sono importabili in spatial quindi se noi adesso facciamo andiamo qua e cerchiamo di fare il issues e facciamo il refresh vedete che c'è c'è un missing script e inoltre c'è un'animazione questa animazione non è compatibile direttamente con con quello che vogliamo noi quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo andare sostanzialmente nella nostra scena facciamo l'unpack quindi c'è l'opzione prefab e c'è l'unpack proviamo l'unpack singolo sì, dovrebbe già esserci vediamo soltanto se ci sono degli oggetti che non dovrebbero esserci lo script questo lo togliamo per il momento remove component e quindi abbiamo tolto uno dei problemi che avevamo e c'è questa animation che a questo punto direi che anche questa potrebbe dare un problema quindi togliamo anche questa animation nel frame abbiamo tutto a posto quindi è a posto andiamo ancora in questo frame qua per vedere che non ci sia niente ok, quindi a questo punto dovrebbe essere a posto ctrl s facciamo ancora un controllo quindi facciamo il issues e check for issues vedete che adesso abbiamo altri problemi che non sono quelli di prima dice game object is a custom tag ora game object is a custom tag vuol dire che è stato messo praticamente con un tag sbagliato l'oggetto è la door quindi facciamo select door vediamo un attimo se questa door dove è stato messo tag sf door ecco, noi in realtà quello che riconosce da noi sarebbe semplicemente il comunque c'è la giusta lui in pratica facciamo un tag ok e a questo punto vedete che abbiamo solo i due warning sulle light maps e sulle light probe a questo punto se noi salviamo la scena e la facciamo il testo dell'active scene posso dare ma che l'altro posso compilire proprio ok qui abbiamo un piccolo errore ok eccoci in realtà abbiamo qualche piccolo problema di compilazione quindi controllate sempre sulla console che non ci siano eventualmente permanenti cioè quando faccio il clear non rimangono comunque degli errori rossi io adesso ho fatto tutto quello che potevo per togliere gli errori quindi ho cancellato le cose che davano problemi la scena come vedete è costituita soltanto da un piano che è questo da un entrance point che è dove cade l'avatar e tra l'altro qui abbiamo il fatto che praticamente l'avatar quando entra è girato praticamente in questa posizione lo facciamo praticamente leggermente a destra qua e in questo modo praticamente cade praticamente è sulla nostra controllata che siamo un pochino più in alto quindi cade leggermente l'ingresso quindi salvate ci va ancora il thumbnail camera perché se no non funziona dovete sempre controllare al solito che non ci siano errori nelle issues qui dovete mettere anche il thumbnail che è un'immagine 1024x512 e gli mettete la scena che è fondamentale il nome con cui volete che venga chiamato questo è uno spazio una volta una volta fatto questo potete provare tranquillamente a verificare se funziona facendo un text salvandolo quindi facciamo ctrl s e facciamo text active scene e con text active scene lui fa le sue modifiche vedete che ho spostato un po' le cose e poi lancia praticamente special cancellate il vecchio sandbox perché se no non cadete all'infinito dovete avere solo una sandbox e come vedete siamo orientati giusti e ci vediamo questa porta che è la porta che si comporta come vedete ha tutte le collisioni a posto e questa porta siamo andati a prenderla sostanzialmente dall'asset store e sebbene la porta apparisse viola quindi senza text gli abbiamo rimesso le text intanto qui abbiamo ancora un piccolo errore perché la nostra porta il nostro prefab in realtà dovremo probabilmente alzarlo leggermente perché finisce sotto questa piattaformina quindi alzandolo leggermente facendo facendo un test vediamo ci torna praticamente sul nostro browser cancelliamo il vecchio perché se no cadiamo almeno ho sperimentato questa cosa qua ecco vedete che la porta è tutta sopra sopra il nostro coso quindi noi possiamo possiamo usarla come un elemento di gioco quindi l'asset store come vi avevo accennato prima è un marketplace di cui molte cose sono gratuite questa porta necessiterà probabilmente di un'animazione che avrebbe già ma non è adatta per spatial e quindi dovremo poi rifargli la sopra nel modo che ci interessa se volessimo usarla e quindi in uno dei prossimi video impareremo come fare una specie di animazione in visual scripting che ci consente tramite il pulsantino o qualcosa del genere di aprire o chiudere la porta è tutto per adesso una sera